Arte e prevenzione è un progetto curato da Giuseppe Cistaro, responsabile del Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene Alimenti e della Nutrizione dell'ASL Umbria 1, che affronta in un libro le tematiche dei sani stili di vita alimentari. A città di Castello il progetto si è associato ad una iniziativa simile per intenti e finalità, la pubblicazione dell'annuale opuscolo informativo della cooperativa di medici di base Futuramed, preseduta da Carlo Paladino. Sono stati il sindaco Tifernate, Luciano Bacchetta e l'assessore alle politiche sociali, Luciana Bassini, a ribadire come la prevenzione sia la chiave di volta per ogni approccio migliorativo di una salute collettiva. L'opuscolo di Futuramed è alla decima edizione ed è distribuito negli ambulatori dell'Alto Tevere Umbro, mentre Arte e prevenzione è consultabile e scaricabile nel sito internet del comune Tifernate. È un programma che è dedicato alla popolazione e viaggia attraverso immagini e parole. È un programma che ho potuto realizzare grazie alla collaborazione di Pecorari, Vallino e Svetlana e fondamentalmente tocca a 360 gradi quelle che sono le tematiche sociali più importanti del nostro vivere oggi. Quindi da una parte tocchiamo le patologie vere e proprie e dall'altra invece anche le tematiche sociali come ad esempio la ludopatia. Quindi in un sistema molto semplice, ricco di immagini e di poche parole, però cerchiamo di stimolare la riflessione in chi andrà a guardare queste cose. Quest'anno è la decima edizione che facciamo del nostro opuscolo. Parliamo soprattutto di una promozione della salute tramite la prevenzione. prevenzione delle malattie a carattere cronico degenerative, che sono le malattie che purtroppo come infarti, ictus, come diabete, come i tumori, possono essere curati solo tramite la prevenzione. Il messaggio che stiamo mandando a tutta la popolazione tramite questo opuscolo creato dalla nostra cooperativa è quello di stare attenti a non ammalarsi.